ciao a tutti sono marco ghezza ambassador per l'italia di bim santori oggi andremo ad assaggiare e degustare insieme la froig 10 anni la froig 10 anni che come ci racconta l'etichetta è un whisky scozzese che invecchia per almeno 10 anni presso i nostri magazzini di invecchiamento un whisky che invecchia in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria makers mark in kentucky più specificatamente all'oretto vediamo questo bel colore questo bel colore dorato un naso che si esprime con questa nota fortemente iodata fortemente salmastra ci ricorda il mare le alghe ci ricorda lo iodio queste note se vogliamo anche medicinali che l'hanno reso famoso in tutto il mondo in bocca un ottimo riscontro con quello appena sentito al naso con questa nota che diventa addirittura sapida sulle labbra e sulla lingua queste note che quindi si ripetono queste note medicinali iodate per poi aprirsi un po a profumi di erica e profumi leggermente agrumati come quelli del lime e chiudere poi la bevuta con un finale fortemente affumicato fortemente torbato o lo ami o lo odi ciao a tutti sono marco ghezza ambassador per l'italia di beam santori oggi andremo ad assaggiare e degustare insieme la froig quarter casca la froig quarter casca è un whisky no age statement infatti non è specificato l'invecchiamento sulla bottiglia ma sappiamo che dalle distillerie la froig non esce un liquido che non abbia compiuto almeno sette anni di gestazione un whisky che invecchia in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria di makers mark in kentucky più specificatamente all'oretto e gli ultimi sei mesi di gestazione gli passa vicino alla costa atlantica in botti da un quarto ovviamente si intende un quarto di botte grande quindi in botti da 125 litri questo particolare invecchiamento fa sì che la superficie di contatto tra liquido e legno sia a favore del legno e quindi questo processo amplifica molto quelli che sono i sentori dell'invecchiamento un whisky voluto dal nostro master distiller perché assaggiandolo ricordava i whisky di 200 anni fa circa i whisky della vera tradizione di la froig al naso queste note che accomunano tutta la nostra gamma quindi queste note iodate e salmastre sono ben contornate da queste note invece spiccatamente fruttate soprattutto di cocco e banana in bocca una bellissima corrispondenza questa nota affumicata e sapida lascia poi spazio a un finale più morbido più dolce che ricorda appunto come ci diceva il nostro naso i sentori del cocco e della banana per finire poi con questa leggera fumosità che si percepisce meno rispetto ai whisky con invecchiamenti più lunghi slime tea